Il portiere di Filippis, il portiere di Filippis, il portiere di Filippis, il portiere di Filippis, assente c'è sempre il capitano, Gennaro Vitale. Il signore è proprio il capitano Gennaro Vitale, ma ci abbiamo anche fatto un premio importante per Luca di Filippis. Gennaro Vitale, casomai mi ho lasciato di tirare in assalato, poi lo recapiterà come si dice. In queste cose poi un premio per Luca di Filippis, il portiere di Filippis, per quest'anno ha 988 minuti di battaglietà, contenuti e quindi anche il primo cilindro, per cui non è stato, non è stato di critica, così la vogliamo definire. 988 minuti abbiamo fatto più che ci sono 10 battaglietà, penso che in Italia pochi possano mandare questi numeri. Vabbè, ogni impresa è una paracina, qua anche a me ho un grande difensore, una grande squadra che mi ha aiutato a fare questa impresa, diciamo, anzi direi che potrà essere anche di più questo minutaggio, infatti è stato interrotto con la squadra, meno probabile che poteva segnare con l'anno in questa tutta e poi l'abbiamo funzionato anche due anni, non saperebbe buone. Quest'anno abbiamo deciso di avere un bel campionato con l'anno in questa Italia, purtroppo sono riusciti a vincere, però sono trovato veramente peoppa a cercare un livello di calcio con lei. Bene, iniziano poi questa indiziazione centrale, si è un po' inferno di questa richiesta, ieri per 45 luglio avete fatto patire tutti i tibosi, avete fatto nominare tutti, poi si è accesa la luce e avete raccavato penso con una delle soddisfazioni più importanti, poi stessi come di tutto e poi è riusciti e poi adesso vi siete regalati questa spettacolare, ci dobbiamo chiamare la qualificazione al secondo giro. Sì, infatti abbiamo iniziato un po' in torbina, abbiamo restito quelle subito, poi ho fatto una insomma, sono andati con una testa, concentrati al massimo e siamo uccidati di partire di tutt'altro, ora speriamo, andiamo a rischiare per cercare di vincere e continuare questa strada di questo soldi alle tre volte. Anche perché purtroppo con il regolamento in pareggio premerebbe loro, quindi comunque dovete andare per cercare questo risultato qui. Sì, sì, noi prendiamo il risultato alla vittoria, quindi andiamo a legare il piatto. Grazie Ianna, puoi anche liberare il riconoscimento poi lungo all'Efilippis e quindi poi possiamo anche andare avanti con la Germola e ringraziamo ovviamente anche l'agente FIPA, Vittorio Settino che si è dedicato tra chi pure in tale premiazione del gruppo e poi la disciplina che più vi piace e che oggi sta praticando anche a livello lavorativo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.